Benvenuti al Casino Pella di Nova Gorizia. Oggi la seconda giornata della Poker Champions League 2019. Primo trofeo assegnato nell'OMA Champions League a Michele Gobin che ha la meglio su un field di 36 giocatori. Sul podio Paolo Della Penna e Aldo Valletta. Ottimi piazzamenti anche per Marcello Mignocchi e Dario De Toffoli. Nella prima giornata il Main Event ha registrato 97 entries, 39 dei quali si sono qualificati al Day 2. Nella parte alta della classifica troviamo Alessandro Scermino, Claudio Di Giacomo e Claude David, ma è Antonino Calabro che si è aggiudicato la chip leading con 300.000 chips. Andiamo a sentire le sue impressioni. Ciao a tutti, è stato un bel torneo. Ho fatto fish piano piano, anche se è un gioco abbastanza aggressivo. La struttura è bellissima, è giocabile. In programma oggi il Day 1B e il Day 1C della Poker Champions League 2019 con la struttura rinnovata. 30.000 lo stack iniziale, livelli da 60 minuti, buy in 400 con la possibilità di rientri e ben 100.000 euro garantiti. Alle ore 21 il Super Knockout. Già schierati al Day 1B di questo Main Event Alessandro Minasi, Giorgio Silvestrin, Enrico Mosca e Andrea Benelli ed è al desk delle iscrizioni Rocco Palumbo. Ciao Rocco. Buongiorno. Per tutti gli aggiornamenti seguiteci sui social e su pokéfactor.org.